Nominato lo scorso 27 giugno da Papa Francesco, farà il suo ingresso solenne nella Basilica del Santo domenica prossima, 8 ottobre, durante la celebrazione eucaristica delle Undici, il nuovo delegato pontificio Monsignor Diego Giovanni Ravelli. Lombardo di origine, Monsignor Ravelli, che succede Monsignor Fabio Delcine, ha già preso in carico lo scorso 1 agosto. Arcivescovo titolare di Recananti, maestro delle celebrazioni liturgiche pontifice e responsabile della cappella musicale Pontificia Sistina, Monsignor Ravelli ha raccontato in un'intervista rilasciata alla rivista dei Frati della Basilica, il messaggero di Sant'Antonio, di accogliere questa nomina con un po' di inquietudine e di timore, pronto a chiedere addio durante la messa d'ingresso per intercessione di Sant'Antonio, la grazia di vivere questo nuovo servizio con serenità d'animo, con inalterata fiducia nella grazia di Dio e anche con un pizzico di buon umore. La solenne celebrazione potrà essere seguita a partire dalle Undici su Rete Veneta, emittente del Network Media Nord-Est sul canale 14 del Digitale Terrestre.